Al termine di una complessa indagine di Polizia Giudiziaria per gravi ipotesi di evasione fiscale svolta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, suddelega della Procura della Repubblica, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP presso il Tribunale Pontino. Gli accertamenti hanno riguardato un professionista del posto che operava attraverso una serie di società ubicate su tutto il territorio nazionale, il quale, secondo quanto ricostruito dai finanzieri della Compagnia di Fondi, avrebbe omesso di dichiarare al fisco i compensi incassati, circostanza questa che sembrerebbe confermata sia dalle indagini di Polizia Giudiziaria sia dalle evidenze emerse dalla successiva attività di verifica fiscale eseguita per gli anni 2018 e 2019, in particolare dalle investigazioni svolte, caratterizzate anche da riscontri e attività dinamiche sul territorio, nonché dalle analisi e gli incroci di risultanze delle banche dati, venivano ricostruiti redditi non dichiarati per oltre 2 milioni di euro ed un'IVA non versata nelle casse dell'erario per oltre 400 mila euro. Rappresentate queste circostanze all'autorità giudiziaria, quest'ultimo avanzato al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e nella forma per equivalente del denaro e dei beni, frutto dell'illecito arricchimento. Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito dalle Fiamme Gialle ha permesso di cautelare 5 tra autoveicoli e moto, disponibilità su conti correnti personali ed una villa nel comune di Sperlonga. Grazie a tutti.